Ciao a tutti ragazzi, Agua e Pappagalli qui come al solito e questo video è il recap dei match degli All-Star giorno Trash e quindi ultimo video, enjoy! Il game inizia subito con Madlife che si fionda su Doublelift, l'headshot non basta e il support assicura la Frostblood per la Corea. Il primo gank di Insec è su Dyrus che perde il flash mentre Saint si dirige mid dove, grazie a un grab perfetto, permette a Scarra di prendere la kill. Madlife torna la carica in mid dove un altro grab trova Doublelift segnando la seconda kill per la Corea. Nel frattempo anche Ambition in top se la cava bene, killando Scarra in un 1 contro 1. Scarra switch a lane andando bottom, ma anche qui viene distrutto da Shy in un altro 1 contro 1. Saint è quindi costretto a dirigersi bot, mentre Insec prende posizione nella giungla avversaria, uccidendo Doublelift e il solito grab flash di Madlife Pesca Special, due nuove kill per la Corea. Il primo drago risulta non contestabile per gli americani che perdono anche torre mid e bottom. Il primo teamfight è top dove Saint counter ganka Insec, tuttavia la Corea è in vantaggio numerico con Ambition, altre 3 kill e 2 torri per la Corea. Il team M&A conclude qualcosa gankando Shy, prendendo finalmente una kill, ma perdendo l'ennesima torre mid. Saint viene trovato vicino all'ultima torre esterna dal solito grab flash di Madlife, altra kill e altra torre per la Corea. Gli americani tentano il tutto per tutto in mid, dove scoppia il primo 5 contro 5, tuttavia i coreani hanno preso troppo vantaggio in gold e esperienza, e il team M&A surrenda al 23esimo minuto. Il secondo game non inizia bene per gli americani, Doublelift non scalta il 3 brush bottom, permettendo alla Corea di passare indisturbata e uccidere Dyrus. La partita si riprende con un gank bottom. Ambition sembra salvo, ma un grab estremo di Saint segnano l'1-1 con torre bottom al quarto minuto. Saint si dirige quindi mid per dare copertura a Scarra, ma viene uccato da Madlife, che prende la kill. Scarra uccide a sua volta Madlife. La pressione torna su Ambition, che perde nuovamente il flash bottom. Questo permette al team M&A di fare un dragon non contestabile, perdendo però la torre mid e pochi minuti dopo quella top. Dyrus viene ucciso top da Madlife e Shy, mentre mid muore Ambition, per mano di Saint, Scarra e X-Special. Il game è in totale parità, fin quando Shy non decide di countergankare bottom. Double kill e torre bottom per la Corea. Brutto errore di Saint, che face check il proprio red buff sapendo che gli avversari si trovavano lì. Muore istantaneamente, permettendo alla Corea di fare il drago. Teamfight top. Scarra si butta testa bassa su Shy e Ambition. Dopo un lunghissimo chase arriva finalmente la double kill per Doublelift. Si uniscono anche Insec e Madlife, che riescono a uccidere X-Special, ma regalando la terza kill agli americani. Mentre tutto questo succedeva, Pre riesce a prendere la seconda torre bottom e la seconda torre mid. Bellissimo teamfight in top lane. Entrambi i team vanno per la di carry avversario. Madlife assicura Lux to Doublelift, che muore in pochi secondi, mentre Pre viene polverizzato da Scarra e Dyrus, con X-Special che muore nella OE. Gli americani stanno vincendo, visto che il fight era un 4 contro 5, quando finalmente arriva Shy, che non riesce ad uccidere Scarra per via dell'ozonia, ma si assicura la kill su Dyrus. È un 4 per 4. La partita si installa, i coreani riescano a prendere prima Drago e poi Baron in 4, evitando le ward avversarie. La Corea si dirige quindi top, mentre Ambition rimane bottom per uccidere Doublelift in un 1 contro 1. I coreani prendono Indibitor, 2 kill e una torre del Nexus. Teamfight in mid lane. Madlife offre una protezione divina a Prey contro Dyrus, che non riesce a fare nulla. Nel frattempo Shy costringe lo zonio a Scarra e Ambition e Insec zonano Doublelift costringendolo a stare nelle retrovie. Altro surrender per gli americani, stavolta a 32 minuti. Il primo game della finale inizia con un invade aggressivo da parte della Corea. Insec riesce a stilare il blu, ne risulta però l'utilizzo di vari summoner spell. Gunk bottom. Bellissima l'azione di Madlife e Insec, che fanno spercare due flash agli avversari e distruggono la torre a 6 minuti. La situazione precipita quando Ambition con TF gunk a bottom. Senza torre e ne summoner spell, Wixiao e Xiaoxiao non possono scappare. Double kill e drago per la Corea. La Cina si riprende con un gunk top, dove Troll uccide Shy. Di nuovo gunk top, stavolta Insec è però presente e grazie all'intervento di Ambition sono altre 2 kill per i coreani, mentre Misaia uccide Prey in bottom lane. Vengono subito dopo tradate le due torri bottom e top. Mentre la Corea fa il secondo drago, Troll decide di ingaggiare Mid insieme a PDD su Ambition. Troll cade e Ambition viene salvata all'ultimo secondo da Madlife. La torre Mid viene finalmente presa e Insec decide di servire Troll su un piatto d'argento al proprio team, rimettendoci però la pelle. Successivamente cade anche Misaia. La Cina non riesce a fermare in alcun modo l'avanzata della Corea, che prende obiettivi su obiettivi, sfruttando lo split push di TF e l'incredibile POC di Shy. Finalmente i cinesi decidono di ingaggiare sui coreani, tuttavia la differenza di gold è troppo elevata e la Corea prende due inhibitor. I coreani fanno il Baron, questo è abbastanza per la Cina, che decide di optare per il Surrender. Il secondo game della finale ha un inizio sconcertante. Xiao Xiao e Wei Xiao si portano Mid, per evitare che Ambition farmi troppo con Cadiz. La Corea vuole evitare che questo accada, e i due team finiscono col fare un continuo switch di lane. Insec gank a top. Sì, Insec sta gianglando con Gragas, mandando l'OHP PDD. Pochi secondi dopo, Shy riesce finalmente a uccidere PDD sotto torre, prendendo la Force Blood. Nel mentre Troll fa un brutto invade al blu avversario, morendo da Madlife. Shy uccide di nuovo PDD top, continuando a diventare sempre più pericoloso. Grosso Fight Bottom, l'UT di Insec separa gli avversari, Madlife riesce a finire Xiao Xiao, mentre Wei Xiao riesce a fuggire. La Cina prende invece due kill, su Insec e su Prey. Ambition e Insec decidono di invadere il blu avversario, trovano però Troll, che uccidono in pochi secondi. Mentre Shy uccide prima PDD, e poi un Misaia senza mana. La Torre Bottom cade, e i coreani decidono di fare il primo drago della partita. La Corea si dirige poi mid, dove prende la torre e la kill su Xiao Xiao, mentre Top e Minion riescono finalmente a distruggere la torre. La Cina ingaggia top su Shy, Madlife gli salva però la vita, exaustando Troll. Muore solo Ambition, e Shy diventa Unstoppable, prendendo anche la seconda torre top. I coreani si spostano poi mid, dove Xiao Xiao viene delettato da Ambition. La torre cade, e Insec decide di ingaggiare oltre il muro per killare Troll. Il teamfight scoppia, ma i cinesi si trovano in svantaggio numerico e con pochi HP. Ne risulta un Ace e Inhibitor. Xiao Xiao grab a pre-in mid, e i coreani perdono il carry AD. Tuttavia i cinesi sono splittati oltre ogni modo. Questo permette ad Ambition e a Insec di distruggere Wei Xiao. La Cina non ha chance, e il fight si conclude con un 4x2 e Baron per la Corea. I coreani si dirigono bottom, dove Insec ingaggia un 5x3 sotto la torre avversaria. Viene però uccato da Xiao Xiao e muore quasi subito. Tuttavia PDD arriva troppo tardi, permettendo alla Corea di fare due kill e prendere la torre. La Cina ormai stufa di avere la Corea nella propria base. Xiao Xiao ingaggia su Shy, insieme a PDD, Troll e Misaia. Tuttavia il danno non basta, e la finale viene vinta dalla Corea. Quindi questi sono stati gli ultimi 4 game dei match degli All-Star. Non c'è molto da dire, veramente. I coreani sono sempre stati in vantaggio e in controllo di tutto, in tutti i game. I primi due game contro gli europei sono stati superiori in tutto. Negli 1 contro 1, nelle lane avevano più farm, avevano più torri. Il primo game contro la Cina è stato assurdo, ero lì che guardavo e quando sei 6 torri a 1, non puoi fare granché. Il secondo game invece è stato un po' più combattuto, però no. C'era Shy Top che era troppo grosso e non avevano abbastanza danno per fermarlo. Quindi io spero che questi miei video vi siano piaciuti, vi siano stati utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!